Per noi è importantissimo Perché viene innanzitutto tra le macerie Innanzitutto quelle delle persone Ma come vedete anche Quelle dei monumenti come qui Del Duomo Che purtroppo ancora giacciono Così come nel 2009 E quindi per noi è importante Perché sia un segnale per la ricostruzione Degli immobili, soprattutto quelli di culto Per cui si registra Una forte lentezza nella ricostruzione E poi per la gente Che è terremotata nell'anima Soprattutto chi come i familiari Delle vittime Ha perso i figli O hanno perso i genitori Io alle 11 e mezza Ok Il Papa che entrerà nella cattedrale Sicuramente sarà un qualcosa Di molto toccante Vedrà insomma I passi che sono stati fatti in avanti Ma vedrà anche La cruenza con il quale La città dell'Aguila è stata colpita Dal terremoto del 2009 Ormai 13 anni a questa parte La città dell'Aguila è stata colpita Grazie.